Il mercato dei pick-up in Sud America vale il 75% dei veicoli commerciali leggeri, stimato a circa 900.000 unità. Proprio per questo Renault si prepara ad aggredire questo mercato con il suo nuovo Duster Orocce, realizzato proprio nel centro di design Renault a San Paolo e che sarà presentato in anteprima mondiale al 28esmo salone dell'automobile dell'ononima città. Si tratta di un pick-up ad uso privato, con spazio per 5 persone e robustezza davvero subito, ispirato nel design direttamente dall'attuale Duster, ma con linee che riprendono la concept di Cross, che caratterizzerà nel futuro tutta la nuova gamma Dacia.